Samuel Stern numero 38, la chiave dell'abisso di Massimiliano Filadoro e Lisa Salsi. Wabalabadabdabe bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti, nella rubrica Samuel Stern e Bugs Comics e bentornati in questo primo video dell'anno. Ho voluto lasciar passare un po' di tempo dall'ultimo video del 2022 che ha coinvolto l'ultimo numero di Dilan Dog e mi piace appunto iniziare l'anno con Samuel Stern, che sono un po' i macro argomenti di argomenti più apprezzati, comunque che hanno un filone più seguito di questo canale. Altro motivo per cui ho aspettato è perché questo numero, la chiave dell'abisso, è indissolubilmente legato a un numero di qualche tempo fa, ovvero il numero 11 dal titolo per l'abisso, e quindi ho voluto rileggere, proprio leggere, non sfogliare, leggere dall'inizio alla fine l'abisso, perché mi sono accorto che leggendo le prime pagine del numero 38 alcune cose io proprio non me le ricordavo e quindi ho preferito rileggermi il vecchio numero. Un altro motivo per cui ho aspettato qualche giorno a fare questa recensione, se si dovesse percepire dalla mia voce, è che tuttora non sono in forma. Il mio apparato vocale, fonetico, ha ancora qualche problema di messa a punto, all'influenza continua in perterrita a tornare e quindi faccio molta fatica a parlare. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, di condividere il video con tutte le persone che hanno un prequel, non so cosa vuol dire, ma va bene, e di commentare qui sotto con quello che venne parso di questo numero, ma anche del numero l'abisso, se avete dovuto rileggerlo, se vi siete buttati a capofitto nel numero 38, se ve lo ricordavate perfettamente e cosa ve ne pare di questi due numeri insieme. Se vi piacciono, se aveste preferito che questo chiave dell'abisso non fosse così dipendente dall'altro, insomma, scrivetemelo qua sotto. Io ovviamente adesso vi dico la mia. Innanzitutto volevo farvi notare una cosa dalla copertina che è sempre disegnata dal trittico di Vincenzo, Tanzillo e Piccioni, o meglio, più che altro, più che per la copertina, che io apprezzo sempre, che è sempre centrata in qualche modo con la storia all'interno, per il lettering, che invece è di Paolo Altibrandi. Siamo tornati al rosso, non mi riferisco ai capelli di Samuel, ma alla scritta Samuel Stern. Dopo tanti mesi di colorazione, che si riferiva un pochino alla colorazione della copertina in sé, come Paolo Altibrandi stesso ha dichiarato, qua si è ritornati al rosso. Perché si è ritornati al rosso? Secondo me è proprio per citare che questo numero è collegato al numero 11, l'abisso, dove appunto la scritta, il font della testata, era in rosso. Quindi secondo me Paolo Altibrandi questa volta si è voluto discostare appunto dalla colorazione della copertina e ha voluto andare a citare appunto la colorazione del numero a cui fa riferimento questo numero. Comunque mettendo della personalizzazione vediamo le bollicine che vanno oltre la scritta di Samuel Stern. Vi ho parlato della copertina, ora parlo del disegno, che è sempre ad opera di Lisa Salsi, sempre nel senso che Lisa Salsi è colei che ha disegnato anche il numero 11. Ricordo, come già detto nelle mie storie Instagram, se qualcuno mi segue, io tuttora non ho perdonato Lisa Salsi per aver ammazzato un cane, anche se a detta sua è colpa degli sceneggiatori, ma non ho capito quale dei tre sceneggiatori ha voluto che il cane morisse nell'abisso. Comunque già dai disegni del cane, dai disegni comunque, come posso definirli, molto dolci, molto tondeggianti, del volto di Arabella, del professore, ma anche degli stessi protagonisti e appunto della vittima, del cane che c'è stata nei primi numeri, ho subito apprezzato il tratto di Lisa Salsi, che qui si è confermato, ho apprezzato tantissimo appunto il disegno, sia nelle inquadrature, nelle tavole, diciamo, nelle vignette, ma anche proprio nei volti. Ho apprezzato tantissimo i volti, ha un bellissimo gioco, soprattutto nei primi piani, di sguardi, gli sguardi che dà i suoi personaggi sono molto, molto belli, rende tutti bellissimi, anche le persone magari un po' meno belle per età o per possessione demoniaca, sono davvero, hanno degli sguardi davvero penetranti, anche in un'inquadratura dove c'è l'infermiera, che appunto è malata, è anziana, ma comunque riesce a trasmetterti questa sua energia vitale, e passando appunto per la bellissima Arabella, che è anche, se non sbaglio, è tra le, come si dice, è anche nella foto profilo di Lisa Salsi, quindi io credo che con Arabella Lisa sia molto legata, e qua appunto ha delle inquadrature davvero belle, si parte da appunto, come dicevo, dai primi piani, in cui il suo sguardo, con un minimo cambiamento, cioè togliendo la pupilla, riesce a far capire appunto quello che sta provando Arabella, passando poi per delle scene un po' più oniriche, appunto dove lei sembra appunto cadere nell'abisso. Quindi i disegni mi sono piaciuti tantissimo, anche dove non mi sono piaciuti, nel senso che lo sapete, io non sono un amante del body horror alla Cronenberg, alla Carpenter, quindi quando lo trovo, resto abbastanza impressionato, eccezione fatta appunto per il fumetto, dove è una cosa che riesco a sopportare, quindi se Lisa Salsi è riuscita a farmi non sopportare nemmeno il body horror nel fumetto, vuol dire che è stata una scena davvero forte, davvero che ha trasceso il media, e non posso dire di più se non avete ancora letto il fumetto, ma se avete letto il fumetto sapete a quale scena, a quale pagina mi sto riferendo, la pagina 80 per intendersi. Dulcis in fundo invece andiamo proprio a parlare della storia, mentre la storia precedente era appunto disegnata, scusate, sceneggiata, quindi scritta, ideata dalla Trinità Sterniana, quindi Filadoro, Saveniago e Fumasoli, qua invece il numero è ad opera soltanto di Filadoro, che non ha ucciso animali, quindi presumo non sia lui l'assassino di cani del numero scorso, ma non lo so, non ci metterei le mani su un fuoco. Questa storia appunto è scritta solo da Filadoro, e va a riprendere appunto molti spunti lasciati aperti, pochi spunti, in realtà non c'erano tantissimi spunti lasciati aperti nell'abisso, semplicemente ci avevano rivelato che Eilith, ovvero la ragazza precedentemente posseduta da Tukul Kamor, era ancora viva, e ancora iniziava un pochino a delirare, forse anche per questo che io rileggendo il numero, e poi leggendo il numero 38, sono rimasto un pochino deluso, ma non deluso perché la storia non è bella, assolutamente, anzi la storia è molto intrigante, è molto coinvolgente, però come spesso accade quando uno si affeziona a una storia, a un certo tipo di personaggi, di quello che si spera vogliano fare i personaggi in un ipotetico sequel, a quello che si vuole vedere in un ipotetico sequel, io speravo che Eilith la facesse un po' più da padrone in questa storia, invece in un certo senso, sì la storia gira intorno ad Eilith, ma Eilith è già un ricordo, quindi nel vero senso della parola, cioè la vediamo nei flashback principalmente, ma non è il collante attivo di questa storia, il collante attivo di questa storia è ancora il professore, che però ecco, un'altra cosa che mi è un po', non dico deluso, però ci sono rimasto male perché ero affezionato a quel professore, ha fatto un percorso evolutivo, un viaggio dell'eroe, se così vogliamo definirlo, in negativo, quindi questo professore, che prima era uno dei pochissimi scienziati, tutti alleati di Duncan e di Samuel Stern, perché gli altri che abbiamo visto lungo questi 38 numeri sono stati tutti degli emeriti stronzi, tutti alleati dei demoni, o peggio, degli scienziati pazzi, questo era forse l'unico professore, l'unico dottore che davvero si occupava della causa, insieme a Duncan e Samuel, e anche questo professore purtroppo ha avuto un percorso in negativo, non sto a dirvi che è passato al lato oscuro coscientemente, ma comunque si è fatto un po' coinvolgere nel modo più negativo da questa mitologia sterniana, e questa cosa un po' mi è dispiaciuta, perché avrei davvero sperato di vedere questa alleanza, questa amicizia tra Duncan e il professore durare nel tempo, sapendo appunto che erano amici già da molti anni, quindi Duncan si è visto perdere un'altra delle sue amicizie nella sua lunga vita, quindi sono sinceramente dispiaciuto per padre Duncan, in realtà non è che sono deluso dalla storia di per sé, ma mi empatizzo, mi affeziono a tutte le perdite che padre Duncan ha avuto lungo la sua vita, e vedere che anche qua ha avuto un'altra delusione, un'altra perdita, mi spezza il cuore. Un piccolo tema, che viene però solamente sfiorato, e non approfondito, che riguarda un pochino l'evoluzione del professore, il professor Bren, è la perdita della moglie. Scopriamo in questo numero che aveva una moglie, lo faccio vedere qui, non ve lo dico perché appunto non va più di tanto a inficiare sulla trama, non lo abbiamo scoperto, cioè nell'abisso non viene detta questa cosa, viene detta qui, ma lui appunto vent'anni fa aveva perso la moglie, e diciamo è molto toccato, è molto scosso da questa cosa, e gli avvenimenti recenti riportano a galla questa sua perdita, e viene un attimino spiegato che l'evolversi della sua crescita come personaggio è dovuta anche, in negativo, è dovuta anche alla perdita di questa persona amata. Però io avrei approfondito un po' di più, a me il lato umano di questi personaggi mi piace, il lato reale, il lato pratico, e mi sarebbe piaciuto che si toccasse un pochino di più il tema della perdita di una persona amata da tanti anni, al punto che ci si sente in colpa perché è solo un'altra foto sulla scrivania. Questo è un tema che a me è molto caro, e mi sarebbe piaciuto approfondirlo. Mi piacerebbe comunque che si possa approfondire in una storia futura di Samuel, non per forza con il professore, magari con altri personaggi, però. Qua, ovviamente, si è semplicemente accennata questa cosa e poi si è virato di nuovo sulla mitologia sterniana molto fantasy, molto horror. Come ho detto, questo numero è molto horror, c'è molto body horror, c'è dello splatter, se così vogliamo definirlo, che non è... non fa da padrone sulla testata sempre, però quando c'è... proprio per questo, anche quando c'è, è molto più di impatto. È un numero molto più malato rispetto all'abisso, dove appunto c'era la pozza di Tukul Camor che faceva da padrona e che in un certo senso comandava tutti in modo cosciente. Qua invece c'è la formazione di una setta che vuole quasi che Tukul Camor resusciti, ritorni in questo lato del piano della realtà e vuole che Samuel, che considerano una chiave, appunto la chiave dell'abisso, apra di nuovo l'abisso per far riemergere Tukul Camor e vedere che queste persone non sono realmente toccate da Tukul Camor, ma in un certo senso ne sono toccate per vie traverse da queste credenze che ha indottrinato loro Eilith e poi Arabella e insomma è molto più malato nel senso che vedi proprio l'animo umano, gli esseri umani come possono essere condizionati da delle dicerie, da delle credenze popolari che vengono loro inculcate quando magari hanno delle menti deboli, delle anime deboli propense ad essere dominate in questo caso dalla credenza demoniaca. Per questo dico, se il numero 11 era molto più lineare, quindi il demone vi possiede, il demone è cattivo e noi esseri umani buoni veniamo soggiogati dal demone, qua invece vediamo proprio la cattiveria dell'essere umano che prende un po' la scusa di avere un demone che li comanda, che li controlla per mostrare il peggio di sé e questa è un po' l'evoluzione che voglio vedere in Samuel Stern, quindi nei primi 10-11 numeri aveva senso questo divario, questo bianco e nero tra i demoni cattivi e gli umani buoni, qua invece siamo ben oltre Abisco e quindi si può parlare appunto di molte zone di grigio, persino Arabella che io ritenevo un essere quasi puro, la vediamo invece anche su un piano molto più oscuro di quello che mi aspettavo di trovare. Sfiora anche leggermente il tema che è stato approfondito squisitamente in Valery, ovvero cosa succede dopo che Samuel Stern libera questi malcapitati da una possessione. In Valery ne abbiamo visti gli aspetti più devastanti, ma anche qua in La chiave dell'abisso vediamo come Arabella dopo l'esorcismo di Samuel Stern non stia bene. Ancora molti problemi psicologici, non ha più un demone all'interno di sé, ma ciò nonostante non sta bene con se stessa, non riesce a trovare il suo posto nel mondo, al punto che anche lei viene coinvolta da Eilith e dalle sue, diciamo, dalle sue follie. Di fatto, dimostrandoci che ci sono in questo mondo anche degli esseri umani non posseduti, che non sono tecnicamente coinvolti nelle possessioni demoniache, sono comunque molto pericolosi, molto cattivi, molto, come si dice, inclini ad andare verso questo mondo demoniaco. Quindi sì, un numero che spezza molte delle certezze che avevo nel numero 11, che decostruisce un paio di personaggi a cui ero affezionato senza ricordarmene, al punto che di primo impatto quasi non mi è piaciuta la storia, ma che obiettivamente è una storia molto più matura, molto più, che scava molto di più nel mondo sterniano e nelle conseguenze appunto di quello che succede dopo i suoi esorcismi. Quindi è una storia che va, secondo me, letta e assorbita con calma prima di poter dare un giudizio. Giudizio finale, chiaramente mi è piaciuto, la rileggerei volentieri. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, scrivetemelo qua sotto nei commenti, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che, spoiler alert, sarà il numero 57 delle Tartarughe Ninja e poi ritornerà anche la retrospettiva sui vecchi numeri e parleremo dal 20 al 49 recupereremo anche quelli. Grazie ancora e arrivederci.